Dire che, nella Repubblica, Platone cerca di delineare uno stato ideale è secondo me qualcosa di abbastanza riduttivo. L'opera di filosofia di Platone, la Repubblica, è un'opera a 360 gradi. Parla di gnosiologia, etica, politica, matematica, geometria. E oggi cercheremo proprio di collegare il mito della caverna a queste materie, la matematica e la geometria. Ma prima di farlo, iscrivetevi al canale, lasciate like, condividete, iscrivetevi al gruppo Telegram, iscrivetevi al canale Discord, seguitemi su Instagram. Insomma, trovate tutto sotto in descrizione. Tutte le informazioni necessarie e collegate a me le trovate sotto in descrizione. Quindi, se avete tempo, bloccate il video, mettetevi comodi e poi cominciamo a questo nuovo argomento di oggi. Bene, l'avete fatto? Perfetto. Cominciamo. Allora, parliamo in assoluto del mito della caverna, in sé per sé, tralasciando il contesto. È un mito che viene introdotto proprio all'inizio e all'inizio del libro VII della Repubblica. E parla di questi prigionieri che sono incatenati, hanno delle catene al collo, quindi non possono neanche girarsi, possono vedere solo quello che hanno di fronte loro, una parete. Perfetto. Dietro di loro, invece che appunto però non possono vedere, c'è un muretto. E dietro il muretto ci sono delle persone che passano con degli oggetti che mostrano al di sopra del muretto. Poi vi è una fiamma, una fiamma accesa, un focolare che proietta questi oggetti sopra il muretto sulla parete e che quindi vedono i prigionieri. Loro però nascono, vivono e muoiono, quindi pensando che il mondo sia quello, quella successione di proiezioni. Poi, cosa succede? Uno di loro esce e vede il mondo per quello che è realmente e capisce che ha vissuto, ha conosciuto solo finzioni, proiezioni delle cose reali, delle cose che sono realmente. Cosa potrà fare questo uomo? Prima di tutto dovrà abituarsi, la sua vista e i suoi occhi dovranno abituarsi alla vera luce, alla luce del sole. Una volta fatto questo, o potrebbe rimanere nella sua torre d'avorio, in cui l'anima è ascesa, verso cui l'anima è ascesa, oppure potrebbe scendere dalla torre d'avorio e ritornare nella caverna per convincere i suoi ex compagni che il mondo di là fuori, il vero mondo, il mondo per quello che è realmente, è più bello. Ora, se quest'uomo ha una virtù politica come la delinea Socrate della Repubblica, e quindi se poi bisogna educarlo e bla bla bla, queste sono però altre cose, di cui parlano, quest'uomo allora riuscirà a convincerli e quindi a far sì che anche loro si compia questa ascensione verso il mondo, per quello che è realmente, oppure questi compagni potrebbero deriderlo. Ora, questo mito naturalmente è anche di poetico e tutto, però effettente a prima analisi non sembra avere niente a che fare con la matematica e la geometria, però aspettate, sta storia succede in tutti i video, io vi propongo qualcosa della letteratura, della filosofia e voi all'inizio pensate che non c'entra niente, ma poi in realtà il collegamento lo troviamo, anche oggi lo troviamo, tranquilli. Naturalmente questo mito ha avuto trasposizioni fighissime nella cultura di massa, filmoni come Matrix, dei Truman Show che si ispirano chiaramente a questo mito nella letteratura anche, però è nella storia della filosofia comunque. Però comunque c'è questo lato più matematico, più teoretico, più filosofico, logico, che secondo me è ontologico in un certo senso, che secondo me è stato un attimo messo da parte molte volte e messo da parte, dottora, e che oggi noi riportiamo alla luce. Allora, prima del libro settimo c'è il libro sesto, naturalmente, però in questo libro sesto Platone introduce un'altra similitudine, un'altra metafora, quella della linea, del segmento, che è molto simile, o forse è proprio la stessa cosa, del mito della caverna. Prima ancora di questa metafora c'è proprio, secondo me, quella che è in tutto Platone, nell'intero Platone, ok, è l'esposizione più chiara, sintetica, perfetta, dell'idea del bene e della teoria delle forme in Platone stesso. Sostanzialmente lui dice che il sole sta alle cose sensibili come il bene sta alle cose intelligibili, al mondo delle cose intelligibili. Che vuol dire questo? Vuol dire, sostanzialmente, pensate, se io ora spegnessi la luce, voi non mi potreste vedere. Semplice, naturale. Perché? Perché la luce permette che voi mi vediate, ora, ovviamente, non è la luce del sole, ma facciamo finta che sia la luce del sole, quindi la luce permette la conoscibilità delle cose, la luce del sole permette la conoscibilità delle cose sensibili, naturalmente stiamo parlando di me, che sono una cosa sensibile, ma non è solo questo. La luce del sole permette, per esempio, la crescita delle piante, la generazione, e così via, la vita, e quindi la luce del sole permette anche l'esistenza di quelle cose, non solo la conoscibilità, ma l'esistenza stessa. Allo stesso modo avviene per le cose intelligibili, il cui sole è il bene, il bene che illumina la verità, e quindi io posso conoscerla solo attraverso il bene. Questo è anche un rifacimento all'intellettualismo etico del maestro di Platone, Socrate, che parla del fatto che il bene sia condizioni necessarie e sufficiente a compiere bene. Ma questa è un'altra storia. Ora, c'è una cosa molto importante da dire, però. Platone, come Parmenide, ha sempre un po' di paura a trattare il mondo sensibile. E questo forse, vabbè, Parmenide lo annulla totalmente. Parmenide dice che non ha senso il mondo sensibile. Esiste solo l'essere. L'essere è reale, ok? In Platone succede qualcosa di strano, perché Platone ammette che il mondo sensibile sia una mescolanza tra essere e non essere. Ma capisci che questo monstrum è un po' contraddittorio, naturalmente. È una mescolanza un po' strana. Nel mondo delle cose sensibili, o meglio, le cose presenti, gli enti presenti nel mondo sensibile, sono solo opinabili. Non ci posso fare vera conoscenza sulle cose del mondo sensibile. Io posso conoscere solo le cose del, quello che poi lui chiamerà comunque iperuraneo, ma che, attenzione, non è un mondo metafisico, è comunque un mondo reale, concreto. Questo mondo, quindi, solo su questo mondo io ci posso fare vera conoscenza. Il mondo delle cose intelligibili, che posso comprendere solo con l'intelletto. E che quindi trascendono tutte quelle che sono le proprietà materiali e, appunto, sensibili. Perché? Che cosa vuol dire posso farci conoscenza? Posso raggiungere la verità? Diciamo che non posso io parlare e rappresentare verità nel mondo sensibile, perché il mondo sensibile è molteplice e mutevole. Infatti, Socrate, per parlare di queste cose, utilizza l'esempio che ha fatto. Io posso mostrarvi diverse cose, che possono essere belle e buone, ma io non posso conoscere la bellezza in sé e il buono in sé, se tengo in riferimento solo questi esempi di bellezza e di bontà. Io devo conoscere la bellezza e la bontà per quel che sono davvero, in sé e per sé, ok? Quindi quelli sono solo esempi. E questa cosa, se l'ho detta anche un'altra volta in un altro video, su cos'è il numero. Nel Menone, un altro dialogo di Platone, c'era sostanzialmente Socrate che spingeva lo schiavo, ok, questo schiavo, a capire l'irrazionalità della radice quadrale di due, e spingeva anche Menone a capire cosa sia la virtù. Quando chiedeva a Menone cos'è la virtù, Menone rispondeva con degli esempi, e invece no, perché gli esempi sono del mondo sensibile, il mondo sensibile è molteplice, sono tante cose, è mutevole, e questo a Platone non piace. Ecco dov'è il rifacimento a Parmenide. Non è un totale annullamento del mondo sensibile, ma è comunque un distacco. Un distacco che comunque non è dovuto al fatto che Platone fosse un genio, e che fosse un luminare, che avesse ragione e tutto, ma probabilmente alla vita che ha vissuto, a una vita politica disordinata. Ora, cosa c'entra tutto questo con la matematica e la geometria? Platone, abbiamo detto quindi, che secondo lui le cose sensibili sono solo opinabili, naturalmente, e l'opinione è un qualcosa che è intermedio tra l'ignoranza e la scienza, scienza che possa applicare solo alle cose intelligibili. Secondo Platone, l'uomo deve essere educato, l'anima dell'uomo deve essere educata per far sì che poi ascenda appunto a questo mondo intelligibile. Come deve essere educata? Beh, ci arriva la risposta in 400 pagine. A noi interessa solamente che il punto focale, uno dei punti focali di questa educazione è proprio la matematica, l'aritmetica, però anche la geometria. Perché questo? Perché questi sono ragionamenti proprio per idee e per forme. Quegli altri due segmenti che abbiamo visto dopo i primi due del mondo sensibile, e quegli altri due del mondo intelligibile. Perché sono un ragionamento proprio per idee e per forme. Quando un geometra cerca di mostrare un teorema, un qualche principio, come per esempio la somma degli angoli interni a un triangolo di 180 gradi, è congruente, quindi a un angolo piatto, non è... fa un disegnino di solito, no? Fa il disegno del triangolo, non lo sta dimostrando su quel triangolo, ma lo sta dimostrando per il triangolo, per quello che è, il triangolo in sé e per sé. Il disegnino è solo un modello di riferimento, ma la sua dimostrazione va oltre quel modello di riferimento, trascende il disegnino. Per arrivare al triangolo, per quello che è l'idea di triangolo, perché noi nel mondo sensibile, i triangoli possiamo avere un oggetto che ha forma triangolare, ma l'idea di triangolo è un qualcos'altro, è un'idea unica, immobile, immutabile e bla bla bla. Quando un matematico cerca di definire il numero, non lo fa in funzione del fatto che poi dovrà usarlo per contare, uno, due, tre, ma lo fa come lo abbiamo fatto noi, in quel video proprio cos'è un numero. In quel video, noi abbiamo fatto quello che farebbe il lavoro di un matematico secondo Platone, cercare di capire cos'è il numero in sé e per sé, l'entità del numero, l'idea del numero. E questa è la cosa importantissima. Quindi, secondo Platone, sostanzialmente, la matematica e la geometria sono, fanno parte di questi strumenti, di queste scienze, che ti permettono di arrivare al mondo intelligibile. Quindi, in un certo senso, cosa sono rispetto al mondo sensibile? Beh, sono l'idea di alcune cose che poi noi troviamo proiettate, quindi il mondo sensibile è la proiezione del mondo intelligibile, di fatto, ok? Però, un depotenziamento, in un certo senso, perché le cose nel mondo sensibile diventeranno molteplici, mutevoli e così via. E, in un certo senso, c'è un distacco in Platone da questo mondo, in Aristotele no, le cose cambiano. Nonostante questo, però, la matematica e la geometria non bastano. C'è anche l'astronomia, la musica, la ginnastica, noi ora ci stiamo costruendo su matematica e geometria. Secondo Platone queste due materie non bastano, serve qualcos'altro, serve quella che Platone chiama la scienza di tutte le scienze. Noi, all'elementari, quando parliamo di matematica, parliamo di regina delle scienze. Secondo Platone, che non è vero, ma, cosa a parte, secondo Platone è la regina delle scienze, la scienza più alta, la scienza in comune, ok? La scienza che hanno tutte le altre scienze è la dialettica. E di questo parlerà anche Aristotele, ma in una maniera un po' diversa parlerà della dialettica Aristotele. Però Platone cosa dice? Platone dice, effettivamente, comunque, la matematica e la geometria arrivano all'essere, alla verità, ma sonnecchiano. Dice letteralmente questo, è un po' come se sonnecchiano. La dialettica, invece, cosa fa? La dialettica si interroga su quegli stessi principi che i geometri, inizialmente, lasciano lì. Cioè, come postulati. Quelli della geometria hanno alcune idee, poi. Saranno dei postulati. E il geometro non deve andare a dire nessuno che quei postulati io li ho trovati perché questo e perché quell'altro. Sono lì. E basta. Fine. Sono evidenti. Sono evidenti, quindi non c'è bisogno di dimostrarli. Non devi dare corda a quello che dicevano, ma non sono veri. Al geometro non interessa questo. Alla dialettica interessa questo. Alla dialettica interessa interrogarsi e analizzare anche questi postulati. È una cosa che non spetta neanche alla metafisica, poi dirà Aristotele. In che senso? Aristotele, nella Fusis, nella sua raccolta dei libri di fisica, i primi libri, o meglio, proprio il primo libro, poi gli altri due, secondo il testo, sono dedicati alla critica a Parmenide, a Melisso, il suo allievo. Nel primo libro, lui parla del fatto che bisogna interrogarsi, prima di tutto lui deve spezzare questa tradizione parmenidea del fatto che il divenire non sia essere. e lui deve dare al divenire un che di essere, in un certo senso, ok? Però c'è un depotenziamento, comunque. Quindi la fisica, per Aristotele, diventa ontologia del divenire. In che senso? Tu vedi le cose e vedi il fatto che le cose cambino, allora il divenire c'è, è evidente, per esperienza è evidente il divenire. Quindi per forza c'è, per forza nel divenire c'è essere. Però, però, attenzione, se io devo confutare, se io devo confutare l'essere parmenideo, devo, e quindi dire che nel divenire c'è dell'essere, non mi serve la fiusis, e non mi serve neanche la metafisica, perché io devo comunque analizzare questo principio del divenire, come è evidente, ma mi serve la dialettica. E lui fa uso della dialettica per dire, appunto, che nel divenire c'è dell'essere. Dopo parlerà della fiusis come scienza che ha in sé il principio del movimento, quindi del divenire, di fatto. Ma è la dialettica la regina. Questa dialettica è che è qualcosa, secondo me, di fighissimo, o meno la concezione che poi nella filosofia, nella storia della filosofia, avrà la dialettica. Però vedete, vedete, è in modo carino. Quindi la matematica e la geometria sono questo strumento per Platone che ti ascende, che compi l'ascensione verso questo mondo intelligibile. Ebbene, quindi, ricordate di vedere alcuni dei video, appunto, che ho ci dato, per esempio, quello su Parmenide, o quello su cos'è un numero, che sono molto collegati a questi argomenti. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao a tutti!